Hai mai bevuto un libro? L'ultimo Cuba Libre Il romanzo che manderai giù tutto d'un fiato La storia di un gruppo di ragazzi allo sbando C'è la droga, il sesso, il denaro, i tradimenti E c'è l'alcol che scorre a fiumi Un romanzo crudo, senza pietà Un pugno nello stomaco Come un Cuba Libre L'ultimo Cuba Libre Di Pierfrancesco Grasselli Nelle migliori librerie Mursia Editore